Discovering Puglia 2015 tra natura e sport nira a promuovere il turismo naturalistico in Puglia attraverso la fruizione dell'inestimabile patrimonio ambientale, paesaggistico e archeologico mettendo in luce il rapporto tra natura ed enogastronomia. Dal Gargano al Salento sono 24 i luoghi della natura resi fruibili, 13 parchi di cui 2 nazionali e 11 regionali, 9 riserve di cui 6 del WWF e 2 aree marine protette, numeri che fanno della Puglia un territorio straordinario. L'obiettivo sicuramente è quello di promuovere il turismo natura in una regione che vede il 14% del suo territorio interessato ad aree protette. Ricordiamo che la Puglia è interessata da 2 parchi nazionali, ben 18 parchi regionali, 16 riserve statali, 3 aree marine protette, 77 siti di interesse comunitari. Le aree protette non sono solo un bene comune e un patrimonio di biodiversità, ma rappresentano anche un'occasione di sviluppo economico, sia per il turismo e sia per l'agricoltura. Un patrimonio verde che ospita ben 200 appuntamenti messi in rete da circa 60 organizzazioni, tra associazioni, guide escursionistiche e rurali e operatori del settore ambientale. Visite guidate tematiche, passeggiate naturalistiche, itinerari in bici, parapendio, running, beard watching, snorkeling, educazione ambientale e degustazioni. Sono solo alcune delle attività organizzate dalla Lega Ambiente Puglia e dal WWF. Nelle domeniche di maggio e giugno tra Gargano e Monti Dauni, area di Bari e la costa, Salento e area della Puglia imperiale, compresa la Valle d'Itria e l'area della Magna Grecia, della Murgia e delle Gravine.